Mi riaggancio a quanto diceva Davide perché voi sapete che il comune non ha delle competenze in ambito lavorativo, però il comune, la struttura, il territorio, si ritrova, soprattutto il quartiere, spesso a gestire le problematiche della mancanza del lavoro. Cioè questo è sicuramente un elemento che ci porterà ad ascoltare e anche a reindirizzare le persone verso nuove opportunità, nuove indicazioni, perché talvolta le persone si trovano senza troppe informazioni. Noi non volevamo fare una presentazione troppo lunga perché vorremmo utilizzare questa piccola rinfresco che abbiamo predisposto come momento per continuare a chiacchierare fra di noi, magari conoscendoci meglio, parlando a due a due magari. Quindi vi ringraziamo per essere stati oggi più presenti e vi invitiamo a bere qualcosa con noi. Grazie a presto.